Buongiorno a tutti, sono Gianluca Salvatori e faccio un nuovo video ormai da più di un anno che non pubblico nulla. Vi faccio vedere che oggi è data e ora è esatta, sono le 9.35 di mercoledì 7 dicembre e torno su un argomento già trattato in passato, non perché io voglia accanirmi su certe logiche e discussioni, assolutissimamente, ma mi sono reso conto già un anno fa che quello che io ho detto da molti non era condiviso, ma per carità, non la toglie che uno non la possa pensare diversamente da me, anzi assolutissimamente. Io ripeto, questo è il mio punto di vista dopo 25 anni di esperienza diretta sui mercati come trader e appunto torno sul fatto che certe dinamiche possono essere sfruttate forse in modo un pochettino più efficiente nell'analisi dei volumi rispetto all'utilizzo del volume profile. Io ho già fatto, come dicevo, più di un anno fa feci un video, il terzo video, perché l'avevo fatto uno già nel 2010, un altro nel 2017 e uno nel 2021, nel novembre 2021, questo video qua. Vedete, questo è il mio canale con tutti i video, questo qui, volume profile ma siamo proprio sicuri, ed è esattamente questo video qui, volume profile ma siamo proprio sicuri, è del novembre, se non ricordo inizio o metà novembre 2021, poi feci un altro video sicuramente molto visto, interessante, che questo qui assorbimento di volume volume flow qualcosa non torna, che in parte è collegato. Ma in questo video sul volume profile appunto riportavo certe logiche facendo vedere che è una logica superata. Perché dico questo e oggi torno sopra? Perché molti poi su quel video, in quel video, nei commenti, mi hanno scritto cose molte volte anche senza senso. Io ho fatto riferimento alle volume strips che presentò Peter Stadelmaier, che è il detentore e ideatore del market profile o TPO, come alcuni giustamente lo chiamano, cioè Time Price Opportunity, che originariamente fu creato per i prezzi, poi riadattato ai volumi. Perché parto da questo? Perché molti considerano queste logiche del cluster di volumi o aggregato di volumi come fondamentale per capire dove sono i livelli. In realtà ci sono logiche più efficienti e molto più precise, ovvero un qualcosa di cui io già parlai e ne scrissi un libro pubblicato e regalato gratuitamente, dove parlavo appunto di quello che io chiamavo pentagramma. Perché? Perché è il VWAP, che è l'evoluzione naturale, matematico-logica del volume profile, perché parte da alcuni concetti di una distribuzione di histogramma statistica, che non è stata creata per fare analisi dei mercati finanziari, ma la statistica è nata molto prima di quando fu utilizzata poi per fare analisi sui mercati finanziari. Perché Gauss risale alla seconda metà del 1700 e Karl Pearson, un matematico tedesco nato nella tardo 800, è morto nei primi anni del 1900, nel 1937-32, adesso non ricordo di preciso, era un matematico che ha definito diverse variabili di queste rappresentazioni matematico-statistica, grafica matematico-statistica, cioè quella dell'histogramma. Perché dico questo? Perché molti utilizzano ancora il volume profile per definire quelle aree sensibili dove il mercato sicuramente andrà a sentire, dove definiscono appunto questi high volume node e low volume node, cioè HVN e OLVN, cioè zone in cui il mercato presenta delle tanti volumi oppure zone in cui ci sono pochi volumi, come questi. Alcuni dicono, ah, perché il mercato deve andare a riempire quelle zone, quei vuoti di volume, ma secondo me è un po' un controsenso, perché spesso il mercato, quando si avvicina a questi vuoti di volume, torna indietro tranquillamente. Io volevo mostrarvi questa cosa, anche questo qui vedete il DAX di oggi in tempo reale, sono le 9.40 e 32 secondi e si sta muovendo 14.312, 313, con diversi volume profile giornalieri, poi c'è il composite, fatto su 15 giorni operativi, perché molti lo utilizzano. In realtà, perché dico questo e torno su questo argomento? Perché ci sono delle modalità matematiche di cui io parlai nel mio primo libro, Il pentagramma di borsa, che è questo, scritto e regalato a tutti nel 2009, dal 2009 me ne avete chiesto in migliaia e migliaia e ancora io lo regalo, se me ne fate richieste direttamente alla mia mail, basta che mi indicate, scrivete due righe, buongiorno mi chiamo Mario Rossi, mi piacerebbe ricevere la sua copia gratuita del libro Il pentagramma di borsa e mi indicate la mail, non sto a scocciarvi, non vi preoccupate perché se indicate la mail vostra, io non sono tipo che poi vi bombarda con email promozionale, eccetera, perché io non faccio promozione di niente, quindi decidete voi, perché alcuni mandano anche delle mail assurde, eccetera, ma a carità, a loro discrezione. Perché dico questo e torno su questo? Perché volevo farvi vedere oggi come praticamente quasi tutti i giorni, su tutti gli strumenti, accade che i livelli definiti da questa mappa, perché è una mappa, con livelli molto precisi e sensibili che io utilizzo, sono livelli fortemente utili per capire dove il mercato va a fermarsi e li sente, appunto, come dicevo, in modo millimetrico molte volte. Questa è la logica, la distribuzione di oggi, perché vedete oggi è il 7 di dicembre e c'è stato un reset della giornata, perché? Perché il reset all'inizio giornata, ma può essere fatto anche a livello settimanale, perché ogni giorno è una nuova giornata operativa, ma assolutamente dobbiamo tenere in considerazione quelli che sono i livelli della giornata precedente. E allora vedete che perché il mercato si è fermato qui sopra, perché era la SD-2 di ieri, e infatti vedete qua yesterday SD-2, poi c'è la yesterday SD-1, qui in mezzo non si vede, c'è yesterday VWAP, eccetera eccetera, cioè riporto ad oggi quelli che erano i livelli sensibili di ieri. Notate come la SD-1, questa qui, ha definito quest'altra zona sensibile, vedete? Ecco che ci sono modi, io voglio dire solo questo, non perché il mio è l'unico modo, ma per carità, io già nel 2009 feci quel libro, il pentagramma di borsa, per cercare di far capire che ci sono modi, oggi con la tecnologia disponibile, ci sono delle modalità e dei modi per riuscire a identificare delle zone molto sensibili al mercato in modo molto più efficiente, perché sono livelli definiti in modo preciso, al punto, ti dicono dove è quel livello. Quel livello tra yesterday SD-2, questo qui sentito in questo punto qua, in questi punti qua, allora un attimo, come questo, piuttosto che questi, eccetera, o questi qui, sono definiti qua, me li mette già prima il software, l'algoritmo, me li calcola prima, sono pre-costituiti. Questa è della giornata di oggi, ma andiamo a vedere come la giornata di oggi coincide, vedete anche qui come rimbalzato sulla SD-1 di oggi, SD sta per standard deviation, sul grafico settimanale, cioè che si resetta ad inizio di ogni settimana, perché questa logica è una logica di ripartizione statistica, matematico-statistica. E di nuovo vi mostro come la SD-1 della settimana scorsa, vedete che millimetricamente ha risposto il mercato, il DAX, nella giornata di lunedì 5, ha risposto su questo livello millimetricamente, che coincideva sull'SD-1 della settimana precedente, la chiusura, e la SD-3 di questa settimana. Che cos'è la SD o standard deviation? È il vero limite inferiore e superiore, la SD più 1 e meno 1, della vera value area calcolata secondo la scienza statistica, che non è assolutamente uguale alla value area calcolata intorno al POC, o picco dei volumi. In statistica non esiste niente e nessuna formula che definisca che un'area di valore, o meglio l'area con la maggior concentrazione della distribuzione che noi andiamo ad osservare, risulti intorno alla moda statistica. Che cos'è la moda statistica? È il picco di concentrazione di quel valore che noi osserviamo. Osserviamo i volumi? È il picco dei volumi. Non esiste in statistica una distribuzione, una concentrazione di distribuzione intorno alla moda. La concentrazione di distribuzione statistica intorno alla media. Qual è la media? È il WAP identificato dai fondi pensione nel 1992 quando nacque il mercato telematico. Già ne parlai in quel video di un anno fa e ancora prima in tutti gli altri miei video fatti nel 2009-2010. Però cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo questo perché vedete come questi livelli sono assolutamente sensibili al mercato? In modo dinamico si autoformano e vanno ad identificare quelli che sono i punti di supporto e resistenza che il mercato oggettivamente poi sentra. Vedete qui la SD-1 di questa settimana. Perché il mercato è stato fermato qui? Perché era la SD-1 di questa settimana che coincideva con la SD-2 della settimana scorsa. E allora perché vi mostro questo? Vedete qua la SD-1 poco sopra il WAP e via dicendo. Sono livelli oggettivamente sensibili. Ecco che vi mostro questo come descrivevo nel mio libro datato 2009. Già nel 2009 io parlavo di queste cose e mostravo che c'era una logica evolutiva più efficiente nel definire i livelli oggettivamente sensibili del mercato. È una mappa, attenzione, alcuni hanno sbagliato nel considerare che si fanno logiche operative, quindi operazioni long o short in funzione della distribuzione che abbia una distribuzione positiva o negativa, una cosiddetta skewness, cioè lo sbilanciamento positivo o negativo. Assolutamente no. È un qualcosa in più che poi va utilizzato secondo altre metriche e soprattutto secondo una logica di struttura del mercato. Fra poco ritorno e accenno. Però dico questo per mostrarvi che il mercato oggi, il DAX, si è fermato su questo livello qui, esattamente questo livello qui, perché? Perché non è arrivato fino al picco dei volumi di ieri, ma si è fermato prima? Perché questi sono livelli sensibili. Oltretutto, vedete come questi picchi dei volumi sono bei passati, il mercato ci passa sopra come nulla fosse. Quella ha chiuso così e il mercato è sceso. Questo era quello del giorno prima, il mercato ci è passato prima sopra, poi sotto, poi sopra, come se nulla fosse. Io già spiegavo il perché. Ripeto, non vuole essere una... qualcosa a questo video come dire, ah, questo è il modo giusto e tutti gli altri sono sbagliati. Non sto dicendo questo. Sto dicendo che forse se osservate e tenete in considerazione queste logiche, vi renderete conto da soli che oggi è possibile avere maggiore efficienza nell'identificazione delle zone oggettivamente sensibili dal mercato, calcolate secondo logiche dei volumi, in modo più efficiente, matematico e non secondo il volume profile. Vi ho già detto, è uno strumento ormai superato, anche perché? Perché il volume profile ha un difetto, oltre a tanti altri che già ho enunciato, che aggiunge solo volumi, non toglie mai. Cioè se io passo sopra un livello, io qui in questo volume profile posso solo aggiungere volumi, perché ce li passo sopra e non li tolgo mai. E questo è il difetto primario, perché chi è che entra nel mercato per non togliere mai i soldi che metti? È obiettivo di tutti entrare nel mercato per realizzare un profitto dato dal differenziale di prezzo? Vuol dire che io se metto i soldi a 14.360, se il mercato viene dalla mia, mette che sono short e sono 14.260, 100 punti sotto, probabilmente realizzo. E allora i soldi che ho messo qui non ci sono più, mentre il volume profile non fa altro che aggiungerci sempre, non toglie mai. Vorrebbe dire, paradossalmente, che chi mette i soldi al mercato non li liquida mai. Lo strumento volume profile ha questo difetto, è unilaterale, non liquida mai, non tiene mai in considerazione le liquidazioni delle posizioni, aggiunge solo su ciò che già era preesistente. Ok? Questo appunto per ribadire ulteriormente ancora l'invalidità dal mio personale punto di vista di questo protocollo e modelli. Appunto, vi dicevo che vedete come è sensibile il mercato a questi livelli? Vedete qua? Ma solo, guardate qui come ha sentito l'ASD meno uno e mezzo, millimetricamente meno uno e mezzo qui, è tornato poi sul VWAP e ancora sopra. Funziona solo su questo? No, vi faccio vedere un'altra cosa. Questa piattaforma è Bookmap, che io mi sono comperato perché ho detto, sai, molti iniziano a parlare di questa cosa, il Level 2, ovvero il book in profondità, l'analisi del book in profondità, può essere utile. Ok? Compro la licenza Bookmap, l'alimento con dati RITMIC a pagamento, miei. Questa è l'S&P 500, questo qui è il DAX ad esempio, vedete? Qua c'è il cumulative volume delta e via dicendo, ecco di nuovo, vi mostro, questo è il DAX su Bookmap. Vedete come questi livelli sono fortemente sentiti? E non è che si è andato a cercare questa area di volumi qua, perché molti dicono, ah, perché il mercato va a cercare i volumi. Non è mica vero, sempre. Non è sempre vero, assolutamente. Vedete che il mercato questa zona di volumi qui non l'ha minimamente bucata, poi è arrivato vicino, poi è stato respinto. E allora io come faccio a sapere quando queste aree di volume presenti nel book sono zone che vengono respinte o zone che possono essere bucate? Come faccio a sapere anticipatamente? Impossibile. Mentre spesso, spessissimo, e io alle persone con cui mi confronto, il mio gruppo di lavoro, ho già mostrato più volte queste cose, spessissimo queste zone di volume vengono posizionate esattamente su quelle zone dove ci sono queste deviazioni standard molto sensibili. Questo è il DAX, ma andiamo a vedere l'S&P 500 di oggi, ad esempio. Ecco, vedete che anche qui c'è un VWAP con la deviazione standard meno 1, più 1, meno 2, più 2. Bookmap ne presenta solo più 2, meno 2 deviazioni standard. Vedete che il mercato le ha sentite, sente queste zone. Vedete qui? Vedete qui c'è questo forte livello di volumi con questa zona rossa, che il mercato però non è andato a mangiarsi queste zone di volume, con 254 contratti. Proprio se ne è strafregato. Anzi, è andato a rispondere di nuovo, ha sentito queste zone. VWAP, deviazioni standard, SD più 1, seconda deviazione standard, VWAP l'ha bucato, eccetera. Di nuovo VWAP, di nuovo VWAP, di nuovo VWAP, qui ha bucato la SD-2, qui di nuovo la risentita, qui la risentita, eccetera. Anche qua. Non solo, se io vado indietro e metto anche la giornata di ieri e via dicendo, vedete qui? Vedete come anche nei giorni, nella giornata di ieri, con bookmap, con piattaforma bookmap, non multichart, perché alcuni amano multichart, non è la piattaforma per fare analisi dei volumi, assolutamente. Poi alcuni che danno degli acronimi a questa piattaforma ridicoli, perché gli dà fastidio, non ne sto a ripetere, ma per carità, ognuno fa quello che crede. Vedete come il mercato sente millimetricamente questi livelli, ci risponde, risponde, vedete la sensibilità, e anzi, quando ieri il mercato è sceso, vedete come è stato incanalato, si è trovato incanalato tra la SD-2 e la SD-1. Vedete? Incanalato. Esattamente come io dicevo nel mio libro a pagina 126 e 127, quando definivo i casi particolari. Casi particolari, questo qui, casi particolari. A pagina 125 iniziano i casi particolari, che descrivo, e dico a pagina 126 e 127. Attenzione, quando il mercato diventa direzionale, tende ad essere incanalato tra due deviazioni standard, fregandosene completamente dello sbilanciamento dei volumi. E infatti scrivo, nel 2009, questo libro nel 2009 che io ho scritto, questo infatti è il tipico comportamento di un mercato che imprime con forza un nuovo trend, rovesciando bruscamente gli equilibri precedenti e mantenendo le quotazioni ben direzionali tra la seconda e la terza deviazione standard. È infatti caratteristica che si ripete con una certa frequenza, già segnalata nei precedenti capitoli, da cui non bisogna assolutamente prescindere o contrastare, che quando il mercato diventa direzionale, tende a muoversi, ricompreso, nelle fasce esterne del pentagramma, fino a quando la spinta impressa dai volumi sulle quotazioni rimane sostenuta. E facevo degli esempi pratici. Nel 2009 io parlavo di queste cose. Guardate, esattamente il caso di ieri, tra SD-1 e SD-2, del S&P 500 scadenza dicembre future. Ecco quindi che perché faccio questo video e vi mostro queste cose? Semplicemente per ribadire questi concetti che il mercato si sviluppa e sente livelli non dati dalla mappa dei volumi, o meglio dal volume profile. Vedete qui il mercato è stato rigettato, adesso sta provando a ribucare, magari sentirà il picco dei volumi di ieri. Ok, benissimo. Ma sono livelli dove qui si è fermato, vedete? ETA SD-1 della settimana, cioè della distribuzione settimanale. E questa invece quella giornaliera. Vedete che è sentito la SD-2 e ha bucato di poco questo livello qui, un 14.347, è arrivato fino qui a 14.350, dove passava la SD-2. Vedete che sono valori dinamici autoadattivi e quindi è un modo più efficiente per definire dove potrebbero essere i livelli target del mercato. I livelli target. Io sono stato accusato quando tirai fuori quel video, un anno fa, sono stato attaccato enormemente da chi naturalmente quel mio video generava non pochi mal di pancia, perché ci sono alcune logiche che spiegano esclusivamente in modo totalitario che quello è il modo. Allora io, per carità, se uno riesce a fare trading anche tirando la monetina e porti i soldi a casa, va benissimo, ha ragione lui. Però siccome il trading è dato da una ripetitività di un modello operativo, funziona. Io ho trovato, io come tanti altri, abbiamo trovato enormemente maggiore efficienza nello sfruttare logiche scientifiche, matematico, statistico, scientificamente provate, che calcolano dei livelli in modo molto accurato. Sono livelli autoadattivi che si calcolano da soli in automatico, che tengono in considerazione l'ingresso e l'uscita dei volumi, cosa che il volume profile non fa, basati su una logica di struttura del mercato, cioè come il mercato va a costruire il suo movimento. Ecco, perché dico questo? E probabilmente farò un altro video prossimamente. Perché ho notato che tantissimi pensano che l'unica logica per identificare i setup operativi sia quello di basarsi sugli indicatori. Non è così, non può essere così. Se io mi baso solo sugli indicatori, solo sulle divergenze e non considero a priori il modo in cui il mercato va a costruire il suo movimento, perché il mercato ha una sua logica assolutissimamente ripetitiva di costruzione di un movimento, diventa molto difficile capire quando l'indicatore lo posso usare a mio favore, se a seconda quella logica di movimento, che non c'entra niente con lo sbilanciamento dei volumi, la schiunes, lo sottolineo. Questa logica strutturale di costruzione del movimento del mercato non c'entra niente con lo sbilanciamento di una distribuzione di volumi. Assolutamente niente. È il modo in cui il mercato va a costruire la sua impalcatura per creare un movimento che ha dei protocolli assolutamente definiti a molto, molto, molto rispondenti. Questo è altro argomento che io insegno poi a chi vuole avvalersi della mia consulenza, delle mie cose, se mi contattano, se no io lo faccio tranquillamente per i cavoli miei e vado avanti. E così fanno le persone a cui ho insegnato questo modello operativo. Però, tornando al nostro discorso, il mercato ha una sua costruzione di movimento e allora gli indicatori devono essere servili, strumentali a questa logica strutturale, non posso basare tutto semplicemente su degli indicatori che io ho, non vi ho mostrato qui, eccetera, adesso ve li faccio intravedere, io ho delle mie logiche, delle mie metriche che vado ad utilizzare, che però sono subordinati alla struttura. È importante capire questo, ma sarà argomento di altro video probabilmente. Tornando a noi, vedete come il mercato sente questi livelli, li sente in modo preciso, già in modo precalcolato, livelli precalcolati. E ripeto, il volume profile, io qui dissi, e alcuni nelle note mi scrissero delle cose, dei messaggi, poiché vanno a cancellare, perché quando io gli rispondo si rendono conto che hanno detto delle cose non vere, cancellano il messaggio per non far vedere. Però uno mi disse, guarda che il volume profile, le volume strips di cui Peter Stadelmayer parlò, sono praticamente il volume profile. Ecco, vuol dire che non ha capito niente, perché le volume strips e proposte da Peter Stadelmayer nel 2011 non hanno nulla a che fare. C'è un post completo del 2011 su futures.io, che all'epoca si chiamava Big Mike Trading, poi ha cambiato nome, si chiama futures.io, che parla di tutta questa cosa. C'è addirittura ancora il video in lingua, in inglese, su YouTube, dove chi ha affrontato il post dice che, chiaramente, I just wanted to clarify that volume strips is very different to VP. VP sta per volume profile. In the presentation he clearly rejects the underlying principle of both market profile and volume profile. Chi chi è? Chi? È Peter Stadelmayer, il detentore del marchio, nonché inventore del market profile, poi riadattato al volume profile. Peter Stadelmayer, ideatore, ha chiaramente rigettato i principi del market profile e volume profile che non hanno, e le volume strips che lui presentò, non hanno nulla a che fare con il volume profile. E qui ci sono appunto queste cose. Nel 2012 ne parlavano, quindi se voi vi avvalete esclusivamente di certe cose, rendetevi conto che c'è stata una fortissima evoluzione di questi concetti, data dalle evoluzioni tecnologiche, esattamente come spiego io in questo video. Cioè l'evoluzione tecnologica ha portato a notevoli cambiamenti, a assolute nuove possibilità di analisi grafica, matematiche, che prima non erano possibili. Quindi ecco quindi che se volete questo video qui spiega in parte già quello che vi ho detto e ancora di più questo, assorbimento di volume e volume flow, qualcosa non torna, vi mostra ulteriormente queste logiche. Perché quindi torno su questo argomento? Perché ancora oggi molte volte mi trovo tra i commenti che vengono assolutamente moderati, perché purtroppo alcuni hanno avuto anche la poca educazione di scrivere cose molto sgradevoli, con termini e assolutamente poco graditi. Quindi sappiate che i miei video sono tutti moderati. Ok? Ancora oggi torno su questo argomento perché non per mio interesse, non per dire io c'ho ragione e voi avete torto. Io semplicemente dico provate ad osservare, a guardare queste cose. Forse vi renderete conto da soli, in vostra piena autonomia, che sono logiche che funzionano. Perché anche Bookmap tiene questa cosa qua? Perché si parla di queste cose qua? Oltretutto questa è una piattaforma che non permette di fare certe dinamiche di studi lunghi oltre lo scalping. Però parte questo, questa è mia personal opinione. Dico questo quindi per mostrarvi, per farvi vedere concretamente ciò che io già in un libro datato 2009 ho descritto, mostrato come logica di maggior efficienza. Poi se voi riuscite a far trading ancora tirando la monetina, piuttosto che affidandovi su cose diverse, ma benissimo, se portate a casa i soldi, benissimo. Però sono convinto che se intravedeste la possibilità di riuscire a fare meglio, con maggiore efficienza e maggior precisione, credo che non è che buttereste via queste informazioni. Quindi dico solo, provate a valutare, provate ad indagare, provate a vedere. Sono convinto che trovereste delle concrete e positive risposte. Detto questo, di nuovo vi saluto, vedete come ha bucato il livello e sicuramente ha bucato come nulla fosse il picco dei volumi di ieri, il POC. Ha bucato come nulla fosse il POC di ieri. E dove andrà sicuramente? Si va a cercare il WAP di ieri. Vedete qui? In tempo reale, il WAP di ieri. Vedete? Questo qui è stato notevole, questo movimento short qui, è stato un assorbimento, un assorbimento assoluto di quello che ha fatto il mercato, perché i volumi sono scesi enormemente, ma è stato assorbito, con delle divergenze appunto di continuazione. E il mercato andrà a sentire il WAP di ieri. Che dove passa il WAP di ieri? Per il DAX questa mattina del 7 dicembre, che sono le 10.06, a 14.385. Qua, yesterday WAP. Detto questo, non ho null'altro da aggiungere.